Pastorino, Lomonte, Stella Bianchi ha votato. Tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 302, contrari 180. La Camera approva. Siamo all'articolo 7. Nessuno interviene. Dichiaro aperta la votazione. Frato Ianni. Baroni. Grassi. Dallai. Piccoli Nardelli. Ciprini. Fabri. Siamo? La votazione è chiusa. Favorevoli 298, contrari 178. La Camera approva. Articolo 8. Nessuno chiede di intervenire. La votazione è aperta. Trato Ianni. Trato Ianni. Folino. Carbone. San Miguel. Corrado. Ferranti. Ferranti. Giuliani. Giuliani. Va bene. Ci siamo tutti. Hanno votato? No. Tripiedi. Ha votato. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 298, contrari 181. La Camera approva. Articolo 9. Nessuno interviene. La votazione è aperta. Nicchi.